Occhio ai giornali di sabato 4 settembre, buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa. Occhio ai giornali, tra poco commenteremo insieme le pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina. Prima, come sempre, vediamo il santo, oggi è Santa Rosalia, auguri a tutte le persone che portano questo nome. Il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.41. Adesso uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Anche questa mattina ci affidiamo alle previsioni della protezione civile delle Marche che prevedono per la tarda mattinata sparsi piovaschi sul settore appenninico centro-meridionale anche a carattere di rovescio per interessare poi la fascia collinare centro-meridionale nel corso del pomeriggio. Domani però il tempo migliora, vedete, sulla costa adriatica, a parte un po' di nuvole sul meridione, il resto trascorrerà soleggiato. E stessa cosa lunedì, tutta la fascia gustiera sarà interessata dal bel tempo con temperature massime stazionarie e quelle della notte invece in lieve diminuzione. Poi c'è l'alta pressione dell'Azzore che ormai conosciamo bene e sappiamo quali effetti provoca sul tempo. Manterrà condizioni stabili, soleggiate, con temperature gradevoli di giorno e fresche durante la notte per i giorni seguenti con probabile peggioramento il prossimo fine settimana. Insomma, da qui al prossimo fine settimana c'è ancora tempo. Invece andiamo a salutare per questo ultimo collegamento la nostra bagnina ma anche titolare. Quindi Nicoletta Pompei da San Benedetto del Tronto, dai bagni Nick 1967. Vedo che ogni tanto qualcuno appare dietro di te, quindi ecco vedo qualcuno sistema la spiaggia perché la tua è una spiaggia di sabbia, quindi va sistemata, va pulita, tutto quanto. E poi c'è anche qualcuno che di mattina presto se ne approfitta per questi ultimi giorni di passeggiate. Come va? Bene dai, ieri ci sono state tantissime partenze e oggi vediamo cosa succede. E già perché c'è il ricambio il sabato, no? Sabato, domenica? Sì. Questa settimana abbiamo già detto è stata piena, la prossima come sarà? Sì. Ma dicono che ci sono ancora dei presenze, quindi vediamo dai. Aspettiamo i turisti, noi siamo qui ancora, quindi... Io ho appena detto le previsioni del tempo, insomma la settimana prossima sarà bello, quindi dai. È viva allora. Andiamo avanti così. Allora io ti ringrazio per questa settimana. Grazie a voi. E saluta tutta la riviera delle palme che è splendida. Grazie. E tutti quelli che ci seguono da San Benedetto del Tronto. Allora buon lavoro e buon fine estate. Andiamo a vedere i giornali. Andiamo a vedere i giornali adesso. Il resto è il Carlino, edizione di Pesaro. Con la fotonotizia al centro, vedete questo signore che dice di essere stato aggredito da alcuni ragazzini, li rimprovera e si ritrova accerchiato insieme ad un vicino di casa. Poi il titolo, fiera Green Pass e meno Bancarelle, San Nicola, ecco le regole per accedere, i controlli saranno a campione, forte calo degli espositori. Marinelli chiude la partita, comprate le industrie Valentini, ma qui non cambierà nulla, qui in senso a Pesaro. Poi Ricci dice basta smart working, ovvero lavoro da casa per i dipendenti del comune, tornate in ufficio, insomma è importante avere il certificato verde e il Green Pass. Super alcolici ai minorenni, chiuso un bar per un mese in Viale Trieste, poi raffica di rapine nelle aree di servizio, presa la banda. A Fermignano invece verso le elezioni amministrative, 5 stelle fuori, a gradare invece c'è solo Gasperi. Lo sport, anzi c'è anche la cronaca di taglio basso, oggi si aprono a San Costanzo, si aprono crepe, evacuato una famiglia, pericolo di cedimento per una casa, via padre, madre e due figli. Per il basket invece Buelle sconfitta dalla Cibona, arrivano il Pivò, niente da fare in Croazia per i biancorossi e Terik Jones debutterà domani. Adesso invece il Corriere Adriatico, anzi no, la pagina di Ancona del resto del Carlino, perché purtroppo c'è questa fotonotizia che riguarda la cronaca, un incidente sulla statale a Loreto, tragica carambola, il titolo, schianto tra una moto e quattro auto, muore a 38 anni, la vittima è Antonio Cariello, agente della penitenziaria. I testimoni raccontano di aver sentito un botto tremendo, sembrava un'esplosione, lo strazio del collega arrivato sul posto. Questa è la pagina di Ancona. Mentre il Corriere Adriatico, aggredito dai Baby Bulli, ingegnere accerchiato e spintonato in Piazza Puccini, siamo sempre a Pesaro, aveva filmato il branco che distruggeva un lampione in Viale Trieste, sanzioni invece per la movida alcolica e senza regole, Boes chiuso per 30 giorni e il Chiringuito invece per tre. A centropagina la fiera San Nicola a Pesaro che partirà dal 10 di settembre, San Nicola ritorno con il Green Pass. E poi parla di Cosimo sulle vaccinazioni obbligatorie, non sono contro la Costituzione, dice lui, non ci sono dubbi, il professor Giovanni di Cosimo, ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e membro dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, conferma che è possibile prevedere l'obbligo della vaccinazione anti-Covid, la carta costituzionale l'ha chiarito più volte, così lui è convinto, poi nella realtà ovviamente le cose sono diverse e questo è tutto appunto da vedere. Giovane sorpreso mentre Ruba la mette a lì per Rossini, i ragazzini invece filmati alla comunità all'imprevisto, scusate, rinati alla comunità all'imprevisto, è una comunità di recupero che c'è a Pesaro e poi a Fano, sicurezza sismica, appalto dei lavori per la scuola media Gandiglio, sotto Brodetto Fest, le novità di Moretta e Pizza Bro, l'evento a Lido offre un concorso e un'invenzione, l'invenzione è quella appunto della pizza con il Brodetto, sarà davvero la novità di quest'anno, bisognerà assaggiarla, anzi, se qualcuno me la porta, visto che io non potrò andarci, ben volentieri, attesi 30, e come me anche tanti altri purtroppo, attesi 30 ospiti e non mancheranno gli chef stellati, insomma, padelle pronte sul fuoco dal 10 al 12 settembre prossimi, torna a Fano il Brodetto Fest. E poi il santuario consacrato, quello di Urbino, arriva Bassetti, presidente della CEI, anche qui mi sarebbe piaciuto andare, e come me anche tanti altri, perché tra l'altro io ho conosciuto Don Elia, sono stato insieme a lui gli ultimi due anni e mezzo, come ho detto, della sua vita, attendevo da 25 anni questo appuntamento, purtroppo non ho il Green Pass e quindi ho dovuto rinunciare sia ieri che oggi e come me anche tante altre persone, ma vabbè, siamo un paese libero e quindi questo è. Intanto Mario Draghi, il vostro presidente del Consiglio, che cosa ha fatto? Leggo questa mattina, regalo di Draghi al garante della privacy, aumentato lo stipendio del garante, che è il signore che sta a sinistra, prenderà più di mattarella, questo è il... Tra l'altro lo scrive Paragone, cosa ha nascosto il governo nel nuovo decreto, perché quando si tratta di aumentare gli stipendi, lo nascondono nei decreti, che non sia troppo in vista, capito? E comunque, siccome il garante è quello che può mettere il bastone a fare ruote, quando si tratta di fare decreti, cose, quant'altro, e insomma, non vogliamo aumentargli lo stipendio, così da adesso in poi sarà garante, sicuro, sparato di tutti i cittadini e sicuramente non si metterà contro il governo in questo caso, sarà molto più difficile, questo pensare male si fa peccato, ma come diceva il buon Andreotti, a volte ci si azzecca. Ci sarebbero tante cose da dire, ma stamattina evitiamo, andiamo dritti, non ci voglio di stare qua a discorrere sempre sulle stesse cose, quindi andiamo avanti con la rassegna stampa e mettiamoci il cuore in pace, tranquilli e beati, che tanto il tempo aggiusterà tutto. Tragedie in porto, trovato morto in mare, siamo sulla pagina di Senigallia, le segnalazioni ieri mattina a dare l'allarme a alcuni pescatori che hanno visto il cadavere in acqua, la vittima aveva 83 anni. E questa è la pagina di Senigallia del resto del Carlino, intanto Bagnini di salvataggio sarà l'ultimo fine settimana, si chiude la stagione intensa, 10 gli interventi e 2 le persone decedute, ma nessuna per affogamento. Mentre ha cerchiato, dicevamo da Pesaro, ha cerchiato da 20 ragazzini e aggredito, residenti sotto scacco, arriva la polizia, è successo a Villa San Martino, nel giardino di Piazza Puccini, i minorenni stavano colpendo un lampione dopo ore di schiamazzi, due abitanti li hanno rimproverati e in cambio hanno ricevuto insulti e uno è stato ferito. Prognosi di sette giorni al pronto soccorso. Questa è un'immagine di alcuni ragazzini del gruppo fatti sedere a terra dagli agenti per la identificazione. Sulla pagina invece, pagina 9, sempre del resto del Carlino, l'economia, l'economia locale con l'azienda, l'importante azienda Marinelli di Pesaro, che ha chiuso un'operazione con Valentini, comprati i 100.000 metri di stabilimento che ha sede a Rimini. Il direttore Cesare Titti dice, era sicura soprattutto, nessuna ripercussione su Pesaro. Questa è la notizia sempre sul Carlino. C'è la festa del Brodetto, grandi chef e star in arrivo, dal 10 al 12 settembre a Lido, la 19esima edizione della Rassegna, cooking show con gli stellati faccani baracchi, ci sarà anche Roberta Capua. Mentre il Comune di Fano ci butta fuori dalla storica palestra è il lamento del Presidente, di Franco Biagioli, Presidente della Futsal Olimpia, che dice per i giovani che questo impianto è un punto di aggregazione. Dunque, buttato fuori dalla palestra di Cucurano dopo 40 anni, Franco Biagioli, che è stato prima Presidente della Olimpia Ginnastica Cucurano ed ora appunto della Futsal Olimpia Fano, rifiuta l'idea di lasciare l'impianto sportivo che ha contribuito di fatto a costruire. Sotto invece si aprono le crepe e fessure in una casa, una famiglia è stata evacuata a San Costanzo, l'intervento è stato fatto in via Solfanuccio 75, sono state interessate appunto, è stata interessata questa famiglia dove adesso il Sindaco, che ha firmato anche insomma l'ordinanza per evacuare la struttura, si è adoperato insieme alla protezione civile di Fano per trovare una sistemazione. Intanto sul Corriere Adriatico, sicurezza sismica, adesso si procede anche per la Scuola Media Gandiglio, al via la procedura telematica per affidare lavori per 1 milione e 600 mila euro, disagi in vista per le lezioni. Intanto la gratitudine del Comune per l'associazione in Caminfano garantito il salvamento nelle spiagge libere. L'ex Presidente, siamo a Colli al Metauro, candidato a Sindaco, si schiera contro il ritorno del treno. Curina guida il centro-sinistra e dà ragione ai contrari alla fusione di Monte Maggiore. Intanto è stato dimezzato il prelievo dal Pozzo del Burano, i sindaci rassicurano, non c'è stato nessuno stress. È come dire, l'acqua all'interno di questo Pozzo c'è, si sta ricaricando, quindi state tranquilli che non succede niente. Intanto era ieri, il titolo di questa iniziativa c'era anche la figlia del generale Anders, Anna Maria è ambasciatrice in Italia, The Green Liners animano il paese di Monte Maggiore. Stiamo parlando di questa ricostruzione, di rievocazione storica. In questa fotografia invece un'immagine storica di Winston Churchill con appunto una bambina. Ecco invece la pagina 21 del Corriere Adriatico. Barbieri, anche qui si parla di amministrative, però a Mondolfo, Barbieri rinnova la lista del fare. Il bis è tentato con 11 volti nuovi, solo 5 amministratori uscenti confermati. Il sindaco sottolinea i risultati ottenuti. Sotto la siccità precrepe casa a rischio, famiglie sfollate, i vigili del fuoco ne hanno dichiarato l'inagibilità. In quattro ora sono finiti in un container. Il container è quello che dicevamo ieri anche nel telegiornale, quelli che si trovano e sono pronti sempre all'occorrenza vicino al campo d'aviazione a Fano. Anche il resto del Carlino si occupa delle amministrative. A Mondolfo, Barbieri cerca il bis dopo la vittoria. Riecco la lista a fare città, 5 candidati su 16 appartenenti all'amministrazione uscente. Abbiamo messo, dice, insieme una squadra di persone competenti che hanno a cuore la propria comunità. Addio invece a Giuseppe Luzzi, Fanisi Lupiango, un appassionato di sport e dell'Alma Juventus. Era un personaggio molto noto in città e se ne è andato all'improvviso prematuramente all'età di 45 anni. Il personaggio Fanisi è molto conosciuto per la sua passione, come dicevamo, per lo sport, la buona cucina e anche gli ideali politici. Sua sorella Carla è consigliera comunale di Sinistra Unita. Mentre la pagina di Urbino è quella che riguarda il santuario che è stato consacrato ieri. Questa mattina invece alle 10 arriva il Cardinal Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per l'inaugurazione. Ieri invece la consacrazione. Si avvera il sogno di Donelia, questo è il titolo del Carlino, consacrata a Castaccolo. Castaccolo è la località, la frazione di Urbino. La chiesa costruita con le offerte dei fedeli del sacerdote bergamasco è ricca di opere d'arte e ha un'architettura molto raffinata. C'eravamo anche noi, comunque con una troupe, abbiamo realizzato un servizio che probabilmente vi faremo vedere nella giornata di lunedì, nell'edizione delle 20 e 30 del nostro telegiornale. La rassegna stampa invece finisce qui. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.